Buonasera ormai, visto che è calata la notte, un unico video oggi perché è festa anche per me e la puntata di oggi si intitola Orgoglio e Pregiudizio Orgoglio e Pregiudizio sono le caratteristiche di Suso ieri sera Suso ci ha salvato le chiappe, se si può dire, segnando il gol decisivo contro la Spal da subentrato, ha fatto gol, calcio di punizione meno male, altrimenti la partita finiva 0-0 come abbiamo detto ieri, come ho detto ieri nel post partita Orgoglio e Pregiudizio perché? Il Pregiudizio è quello che abbiamo noi tifosi e Orgoglio è quello che invece ha dimostrato lui Partiamo dal presupposto che io non sono assolutamente un fan di Suso e lo ritengo molto limitante per il gioco del Milan, per la nostra manovra e anche in prospettiva non lo ritengo un giocatore che possa partecipare ad un Milan consistente sperando sempre che lo diventi consistente però in questo momento, abbiamo visto anche ieri sera, non è che le alternative siano un granché Samu ha fatto una partita di grande impegno ma poco altro e sta a Pioli trovare il giusto compromesso tra schierare Suso oppure tenerlo come arma partita in corsa come ha fatto ieri sera che non è sembrata una brutta idea quindi il Pregiudizio è quello nostro, fischiato dai tifosi eccetera eccetera l'orgoglio è quello suo perché comunque è entrato con una certa volontà naturalmente poi dobbiamo dire che la sua partita è durata di fatto dieci minuti cioè da quando è entrato ha fatto gol, ha fatto una copertura e poi si è fermato ma questo sappiamo, è fatto così è fatto così e non possiamo farci nulla perché le sue caratteristiche fisiche e anche il suo stare in campo sono queste ormai lo sappiamo, sono tanti anni che è con noi per cui da un lato dobbiamo fare necessità virtù non abbiamo alternative o per meglio dire l'abbiamo ma quelle che abbiamo sono Castiglieco, l'avete visto tutti, non è che mi invento le cose Rebic che è sparito, non può giocare, non si sa perché oppure altre soluzioni che in questo momento però per Pioli sono difficili da mettere in atto anche perché bisogna fare punti già ieri se Suso non metteva quel pallone finiva 0-0 quindi per questa volta ringrazio Suso per aver deciso questa importante partita e dalla prossima però dovrò cominciare a ringraziare Pioli nel senso che dovremmo cominciare a vedere un Milan sulla base delle idee del tecnico anche perché mister Pioli mi rivolgo a te se mi guardi fai quello che vuoi cioè voglio dire se il Milan cambia proprietà oppure improvvisamente Elio ti impazzisce e decide di diventare ambizioso a giugno non sei più il nostro allenatore perché questo è sicuro non sarai più il nostro allenatore a prescindere dai risultati che otterrai a meno che tu non ci porti che ne so al quarto posto magari in quel caso ne possiamo discutere cosa che naturalmente io mi auguro perché poi apro una parentesi non è che noi tifosi vogliamo mangiare un allenatore dietro l'altro noi tifosi sogniamo che arrivi un allenatore magari medio e che improvvisamente faccia un miracolo e ci porti in Champions League o poi magari anche essere competitivi per vincere i tornei quindi Pioli fai quello che ti pare hai la possibilità davanti a te di avere tre partite contro tre squadre più forti perché anche la Lazio in questo momento è più forte per tanti motivi non proprio magari nelle individualità però dal punto di vista di squadra di progetto di tempo che si sta insieme sono più forti più avanti di noi poi dopo giochi con la Juventus a Torino poi dopo giochi in casa con il Napoli fai quello che vuoi cioè metti la squadra come vuoi sei dopo la sosta vuoi passare al 3-5-2 passa al 3-5-2 fregatene di chi sta in panchina di chi gioca eccetera l'altrano le ha detto anche lui questo mi è piaciuto devo dire la verità ha detto la squadra in questo momento conta più del singolo quando gli hanno chiesto di Suso la risposta la risposta non mi è dispiaciuta non mi è dispiaciuta perché non ha detto come Giampaolo Suso è un campione un fuoriclasse eccetera a questo punto fra l'altro cominciò a pensare che lo credesse davvero ha risposto dicendo Suso è un ottimo elemento un ottimo elemento però in questo momento è la squadra più importante del singolo e questo non solo è vero ma è fondamentale e allora caro mister se tu parli così è perché probabilmente in testa hai qualcosa di diverso dal Mina che abbiamo visto ieri quindi io sono dell'idea che dobbiamo ringraziare Suso per la vittoria di ieri questo sicuramente dobbiamo ringraziarlo per questo suo orgoglio che comunque ha mostrato e dobbiamo un attimino ricrederci noi tifosi probabilmente ma io in primis per i pregiudizi chiamiamo su di lui in questo momento non ci sono alternative ma in questo momento poi fra qualche partita magari ne riparliamo soprattutto se come penso Pioli è in testa qualcos'altro come vi ho appena detto per cui sono dell'idea che il mister debba fare di testa sua debba percorrere la sua strada e debba farlo fregandosi di quelli che gioca ad esempio secondo me secondo me giocatori come Che Si io non so se vedranno tantissimo al campo con Pioli se continuano a dare queste prestazioni perché anche ieri sera è stata una cosa imbarazzante l'ho detto nel dopo partita ma oggi lo confermo è stata veramente una prestazione imbarazzante da parte di Che Si penso che Suso giocherà ad esempio con la Lazio fra due giorni credo che sarà titolare magari può essere che la vittoria di ieri sera abbia un attimino messo tranquillità se non altro ai ragazzi se non proprio cambiata la stagione perché è difficile cambiare le cose in due partite difficile però magari chi lo sa forse mentalmente un po' più liberi giochiamo anche in casa forse San Siro si renderà si dimostrerà un pochino più disponibile nei confronti dei ragazzi speriamo speriamo non ho sensazioni molto positive perché ripeto la Lazio tra l'altro è in una fase di crescita e come dicevo ieri sera a proposito scusate se il video è finito così male ma ci sono stati dei problemi tecnici ieri sera poi dicevo che la Lazio mi sembra più orientata a pensare al campionato quest'anno a voler centrare il quarto posto piuttosto che l'Europa League che mi pare che non le stia dando tanta attenzione per cui sentirà molto la partita di domenica oltretutto c'è quella storia che sono 30 fischiani che non mi c'è da noi che insomma negli ultimi anni storicamente ha fatto fischio a parte che ha vinto l'ultima partita ma era una partita di Coppa Italia però io credo che dobbiamo riuscire a compattarci un po' di più anche ieri non abbiamo sofferto perché la spalla è una fase offensiva inesistente nonostante Petagna che secondo me resta un giocatore che può entrare nelle rotazioni di un club importante e io lo prenderei in questo momento per le caratteristiche che ha e che noi non abbiamo però noi come dicevo anche ieri facciamo veramente tanta fatica a segnare e quindi per domenica a questo punto Pioli o si affida di nuovo Leao e spera che Suso magari riesca a trovare un altro gol magari su calcio piazzato il fatto è che poi dobbiamo andare anche a prendere quei calci di punizione perché anche ieri siamo andati a prenderci quella punizione a questo punto di vista Piontech è stato molto bravo ha messo il corpo nel modo giusto ha fatto il giusto movimento però ne prendiamo poche dal limite fratto fateci caso quante poche punizioni prendiamo dal limite e quelle che prendiamo poi se sono dall'altra parte le tira qualcuno che non è capace tipo Cialanoglu oppure se sono da questa parte insomma le tira a Suso e molte volte fa gol per cui anche lì la nostra azione offensiva dovrà essere però è chiaro che se da quella parte gioca a Suso andare a prendere punizioni lì è molto difficile deve esserci un bel lavoro della mezzala in questo momento le mezzali da noi sono tanto sofferenti speriamo che Jack sia tornato ieri ha giocato la sua prima a San Siro dopo un anno praticamente speriamo che Jack possa reinserirsi in uno dei meccanismi della squadra perché lui è un giocatore che può aiutarci in questo momento giocatore di esperienza tecnico quanto serve e soprattutto ha capacità di inserimento questo sì per cui mi aspetto che piuttosto di vedere il che si di ieri a parte che piuttosto di vedere il che si di ieri li metto crunici tutta la vita subito immediatamente cioè dopo la partita di ieri come vi ho detto Pioli di nuovo oggi in regione tecnica gli avrà detto di nuovo non fate questa cosa non fate questa cosa non fate questa cosa e lui la rifarà perché o mai non lo so è come se avesse slegato completamente col Milan non lo so non lo so se ci siano voci di mercato dietro può essere perché di solito diciamo giocatori non proprio di primo livello che giocano così è perché sono prossimi all'accessione oppure lo fanno apposta per qualche motivo non lo so però in ogni caso che sì per me deve prendersi una pausa perché così è dannoso e non serve a niente quindi crunici dentro vedremo poi oggi non so molto delle notizie di Milan vi dico la verità perché era vacanza e quindi mi sono dedicato ad altro però domani ci aggiorniamo e vediamo cosa sarà per domenica sera se Pioli deciderà soprattutto sarà anche la conferenza stampa domani quindi sentiremo la conferenza stampa del mister il quale però come sapete non parla di formazione durante durante quell'appuntamento staremo a vedere comunque in ogni caso per tornare al punto di inizio e salutarci dobbiamo cercare di essere un po' indulgenti in questo momento anche con Suso io sono convinto sono convinto che la dirigenza per quanto io contesto per quanto io sapete voglio altro eccetera eccetera però sono convinto che sappiano che non si può costruire un Milan sul Suso che sia stata un'emergenza che quella volta con Gianpaolo si sia in un certo senso messi d'accordo per cercare di rivalutare il giocatore il quale farà tentato poi una spirale di prestazioni negative fino a ieri sera quindi un attimo di pazienza con Suso se poi giocherà altre due partite farà schifo di nuovo tornerò a essere il primo che lo critica e che ne chiede la sostituzione o un'alternativa però secondo me ripeto attenzione dopo la sosta attenzione perché può esserci aria di 3-5-2 secondo me c'è a quel punto Suso vedremo bene ragazzi buona serata ci sentiamo domani se il video vi è piaciuto mettete un like e aspettiamo aspettiamo la partita con la Lazio grazie a tutti